Un territorio, una comunità, una collettività certamente crescono attraverso l'università. A Taranto ci sono dei passi in avanti per quanto riguarda il discorso dell'autonomia universitaria, ma il cammino è molto, ma molto lungo, molto in salita, perché vogliamo che Taranto, ecco, ritorna il solito discorso, non sia la sorellina povera rispetto a Bari e Lecce, ma abbia una sua autonomia, una sua dimensione, una sua centralità anche in ambito di offerta universitaria. Ne parliamo con il dottor Antonio Tramonte, che è candidato al Consiglio regionale pugliese con la Lega. Nel suo slogan, tra l'altro, non cita l'università, ma cita la scuola e il futuro. Ma quando parliamo di scuola, parliamo di università. Eh sì, la scuola è il futuro, è il futuro in tutti i sensi. Quando me lo ripetevano i miei genitori da bambini, ovviamente non ci si fa molto caso, ma ovviamente sono concetti che si comprendono fino in fondo dopo un lungo cammino personale. La situazione scuola e in modo particolare è la situazione università. Lei accennava giustamente che Taranto non ha una centralità, così come non ce l'ha nella sanità, non ce l'ha nemmeno nell'università. Ci sono due argomenti paralleli che mettono ancora una volta in evidenza quella che è l'opinione del palazzo regionale di Taranto. Taranto purtroppo continua ad essere, ripeto, sempre una colonia del palazzo regionale di Bari. Lecce è riuscita ad avere una sua università, Bari è ovviamente un'università più storica, più grande perché è il capoluogo di regione. A Taranto si sono fatti tanti piccoli passi, ma ovviamente non sono sufficienti. Ricordo quello che è accaduto poco tempo fa, di riattivare i corsi degli studi in medicina. Ovviamente per via dei pochi iscritti questi ragazzi entusiasti all'inizio erano costretti magari a recarsi a Bari, quindi praticamente risultavano iscritti a Taranto per poi ovviamente andare a Bari. E comunque sia, se non si programma, non si attua un progetto su quella che è la costruzione, all'avviamento di un'università, è ovvio che nel momento in cui anche gli stessi docenti devono venire a Taranto a compiere 80 chilometri per 10 studenti, è normale che sulla carta è più comodo che 10 ragazzi vengano a Bari piuttosto di spostare una classe di docenti. Ma in fondo questa è una trappola, una trappola per fare in modo effettivamente che Taranto sia sempre comunque sia subalterna a quella che è il pensiero regionale barese.